Mafia, estorsioni e droga. Sono 33 le persone indagate a Messina nell'ambito di un'operazione di carabinieri, guardia di finanza e polizia. Tra i reati contestati anche sequestro di persone e voto di scambio. In carcere sono finite 21 persone, 10 ai domiciliari. Sequestrate due imprese del settore delle scommesse e della ristorazione. Pestaggi, spedizioni punitive e distorsioni ai danni delle attività commerciali venivano decise in alcuni bar, pub e sale biliardo del centro cittadino. Era così che, secondo gli inquirenti, i boss pianificavano le loro azioni intimidatorie per controllare il territorio e lo spaccio di stupefacenti in città.